eccoci ancora qui eccoci ancora qui cari gattoloni all'ascolto allora cosa vogliamo fare anche stasera un freddo becco e insomma le condizioni dicono stiamocene in casa oppure magari andiamo anche a farci un giro con una macchina collegata al nostro bel telefonino e cosa ascoltare qual è la cosa migliore per riscaldarci e per avere un piacere immediato ascoltare musica senza confini su Iarnacci Radio Web ecco questa è una cosa molto buona da fare ma non peraltro perché noi meno male non è che traiamo niente da tutto ciò noi della radio traiamo la soddisfazione di avervi accontentato questo sì di aver allietato le vostre orecchie questa è l'unica nostra soddisfazione perché non c'è nient'altro che muove tutto ciò ecco allora spapparanchiamoci direttamente sul nostro bel divano a questo punto un bel calice divino buono magari rosso corposo che ci permetterà di sfogliare questo libro musicale perché perché è una sorpresa continua ogni canzone che diciamo esce dal vostro dalle vostre casse è una pagina di un libro nuovo un libro musicale per cui insomma è bello anche attendere la successiva come faccio io insomma tutto qua poi i nostri artisti gli amici gli artisti che ci scrivono ci mandano i loro pezzi sono tutti bravi credo che lo potete testimoniare insomma chi ascolta lo sente ringrazio tutto il mondo perché dalle statistiche ho notato che ci ascoltate veramente dall'America dal Messico da dall'Argentina da Pioltello insomma veramente un osmosi mondiale e questo insomma ci fa veramente piacere per cui spero capiate le mie parole io purtroppo non so esprimermi in nessun'altra lingua che non sia l'italiano quasi corretto per cui mi spiace ma dovete poi farvi tradurre tutto quello che sentite in questo momento allora grazie ancora a tutti quanti e un sorso di vino buono è una canzone bellissima che sta per arrivare ciao gattoni a presto grazie a tutti